sappiamo tutti cosa voglia dire entrare in una caverna buia con il pavimento ricoperto d'oro scintillante che sia la montagna solitaria la vetta della tempesta il monte grimarfang col picco del tuono alla fine c'è sempre il rischio di incontrare un drago questa volta sono due ciao a tutti sono giada e sono qui con emilio ciao per parlarvi di dungeons and dragons e altri giochi di ruolo da vari punti di vista cercando di rispondere anche alle vostre domande prendiamo ad esempio una domanda che ci è arrivata e che dice buongiorno vorrei chiedervi un consiglio riguardo alle battaglie campali vorrei inserirne una tra qualche livello ma temo di non saperla gestire controllare attacchi di 10.000 uomini non è come controllare le mpc di turno avete dei suggerimenti giada vuoi iniziare a rispondere tu sì vado allora innanzitutto ciao grazie per averci scritto e secondo me è una domanda molto interessante perché non succedono così di frequente le battaglie campali quindi sono interessanti da gestire io ti rispondo ovviamente dal punto di vista di una giocatrice perché non mi è ancora capitato come master di provare a gestirle credo che per riuscire a coinvolgere il party in una battaglia così grande dovresti descrivere sia le scene generali di quello che sta succedendo tra gli interi eserciti che descrivere invece le scene particolari di quello che sta succedendo a ogni singolo personaggio del party i personaggi potrebbero essere magari divisi o tutti assieme e quindi tu potresti continuare a cambiare diciamo il focus di quella telecamera immaginaria che ha il dungeon master con cui descrive quello che accade diciamo che secondo me in questo modo i giocatori si sentono sia molto coinvolti quando descrivi quello che sta succedendo a loro quindi quando fanno il combattimento normalmente usando i turni l'iniziativa eccetera eccetera quindi attaccano i nemici e così via ma poi dovresti riuscire a interrompere momentaneamente il combattimento spostando appunto quel focus della telecamera su qualcosa di più ampio quindi ad esempio ci sono dieci maghi che hanno lanciato delle palle di fuoco e vedete che queste palle di fuoco si abbattono sull'altro esercito eccetera eccetera no cioè scene così epiche dovresti fare in modo che vengano descritte bene che loro non le perdano perché in questo modo secondo me loro capiscono anche che stanno agendo all'interno di qualcosa di molto più grande e di molto più epico rispetto al loro singolo combattimento e secondo me in questo modo riesci anche a tenere un giusto livello di tensione continuando appunto ad alternare le due cose ok ma quindi come giocatrice ti piacerebbero anche scene che vedi solo dall'esterno? sì se è una cosa del genere sì nel senso che comunque le parti di descrizione comunque all'interno di dnd secondo me sono sempre molto accattivanti no nel senso che comunque nel momento in cui il dungeon master è bravo a descrivere qualcosa effettivamente noi riusciamo a immaginarla e a immedesimarci ancora di più nei personaggi quindi io mi immagino ad esempio no il mio personaggio che è lì a lottare contro quei tre npc che ha attorno e all'improvviso il dungeon master mi descrive un drago che sta volando sopra di noi e io seguo con gli occhi il drago e vedo che sta bruciando l'altro esercito per dire ok invece beh io faccio il dungeon master praticamente sempre quindi il mio consiglio è da quel punto di vista allora la prima cosa è studia le scene meglio riuscite di battaglie campali o di battaglie in generali che trovi nella letteratura o nei film per esempio io mi ha sempre affascinato e ho studiato bene la battaglia del fosso di elm o anche la battaglia dei bastardi in game of thrones e userò come esempi soprattutto la battaglia del fosso di elm rispondendoti tecnicamente non è una battaglia campale ma funziona più o meno allo stesso modo per chi non avesse visto il signore degli anelli la battaglia del fosso di elm è una battaglia enorme che vede i buoni rinchiusi in un forte circondati dall'immenso esercito dei del cattivo di turno guardando quelle scene nel signore degli anelli si capisce bene che prima di tutto la battaglia deve essere un susseguirsi di azione e reazione a un'azione dei buoni o comunque in nostro caso del party deve esserci una reazione dell'esercito avversario e così via di continuo quindi non deve essere soltanto qualcosa che succede ci sono i combattimenti che avvengono di sfondo ma qualcosa che è legato alle azioni e alle scelte che i giocatori o gli avversari o gli npc prendono un esempio è proprio l'inizio della battaglia del fosso di elm la battaglia inizia perché è uno degli arcieri umani dei buoni non trattiene l'arco e scocca una freccia prima che venga dato l'ordine e abbatte un urukai ed è quella la scintilla che fa scoppiare che anche cioè sappiamo tutti che la battaglia sarebbe iniziata comunque nessuno si aspettava qualcosa di diverso ma il fatto che sia la reazione per qualcosa fatto dai difensori dà proprio il senso di come l'azione dei personaggi che stai guardando anche delle comparse come in questo caso sia importante quindi il mio primo consiglio è questo è quello far vedere le ripercussioni delle azioni del party o comunque delle truppe degli alleati quindi far vedere che magari un generale decide di caricare viene sbaragliato e quindi due o tre nemici in più compaiono nell'incontro che sta facendo il party e così via il secondo consiglio è quello di creare minigiochi porzioni della battaglia che devono essere risolte dai giocatori come se fossero dei puzzle perché un po' il problema delle battaglie campali che può diventare soprattutto per i personaggi di combattimento un ok c'è il nemico lo colpisco lo abbatto prossimo colpisco lo abbatto e diventa veramente faticoso per il dungeon master continuare a cambiare descrizione per renderla interessante quindi il mio consiglio è crea dei minigiochi basate sulle abilità e non sul combattimento e l'esempio perfetto dal fosso di elm è quando gli urukai portano la gigantesca riete sopra la rampa del torione principale e aragorn e gimli escono da un'uscita secondaria per fermare l'avanzata della riete praticamente da soli no e quello potrebbe essere un perfetto esempio si creano tre prove la prima prova è furtività per uscire dalla fortezza la seconda è atletica per saltare oltre il fossato ed arrivare in corpo a corpo con l'emico e la terza è costituzione per resistere abbastanza a lungo da permettere ai difensori di respingere la riete senza bisogno di combattere quindi è una mini è un attimo di interruzione in cui due o tre personaggi o anche tutto il party fa qualcosa di specifico e così si dà anche l'opportunità al ladro del gruppo per esempio di sentirsi utile alla battaglia ok o i personaggi buildati per il roleplay avere qualcosa da fare corpo a corpo pensate anche interazioni tra i vari personaggi un puzzle potrebbe essere convincere il comandante che c'è qualcosa che non va quindi trovare all'interno della battaglia un modo per dire guarda che c'è le truppe non si muovono come dovrebbero c'è c'è qualcosa di grosso che sta arrivando in modo tale che gli altri siano pronti il mio terzo ma non ultimo consiglio è di solito comunque nelle battaglie campali o negli assedi c'è una linea una posizione da difendere a tutti i costi un modo interessante per non mettere in pericolo i giocatori con il semplice numero di attacchi che gli arriva addosso ma comunque dare sensazione di una battaglia e del carico di nemici senza dover tener conto del centinaia di frecce che volano migliaia di combattimenti e colpi di spade così e trasformare la vita in movimento quindi quando subiscono un danno invece di perdere vita vengono spinti indietro ok fino ad arrivare quando abbastanza personaggi sono a zero di movimento la linea è rotta e da lì in poi si iniziano piccoli incontri esattamente come quando le linee di due eserci ti impattano una contro l'altra poi si frammentano in migliaia di scontri individuali ok dal fosso di helm non so se c'è un esempio non mi è venuto in mente però di sicuro la battaglia dei bastardi da quel punto di vista interessante quando il combattimento entra nel vivo ormai sono tutti talmente attaccati tra di loro che la battaglia di john snow diventa riuscire ad uscire dalla massa di corpi per respirare e quello è un modo interessante per non dover gestire migliaia di attacchi e comunque dando però sensazione del pericolo e del loro valore i personaggi oppure altre regole speciali possono essere dare il comando di alcune truppe che a quel punto non attaccherebbero più singolarmente ma offrirebbero bonus o svantaggi ai giocatori che ne so se i personaggi danno il comando formato il muro di scudi tutti ottengono più due alla classe armatura ma perdono movimento se ordinano una carica hanno più due ai danni ma meno uno alla classe armatura così non c'è bisogno di tracciare tutti gli npc buoni tra virgolette tutti gli alleati dei personaggi ma i personaggi hanno comunque un bonus che li rende più forti del normale in grado di combattere un numero maggiore di nemici l'ultimo consiglio e poi smetto è di non considerare dal punto narrativo gli eserciti come composti da singoli npc perché è semplicemente impossibile nessuno di noi ha le forze per farlo ma considerare gli eserciti nella loro interezza come un npc quindi questo gigantesco npc formato dalla moltitudine di uomini cosa vuole perché cosa combatte cosa lo spingerebbe a ritirarsi poi all'interno di questo npc schiacciato un paio di personaggi più importanti nobili o qualcuno che viene conosciuto dal party durante l'accampamento la sera prima o qualsiasi altro comandante per dare interesse alla battaglia però in generale non c'è bisogno di tracciare 10.000 npc per dare l'idea di una battaglia campale basta trovare modi interessanti anche perché proprio a livello psicologico se vogliamo essere realisti comunque all'interno di un gruppo così grande in realtà si crea quella che viene chiamata la mente collettiva perciò effettivamente soprattutto se sono eserciti addestrati in effetti cioè le persone agiscono sapendo che hanno tutti lo stesso fine eccetera eccetera perciò ha senso anche e dall'altro punto di vista una volta che hai un unico npc e quindi reagiscono più o meno tutti allo stesso modo i due o tre npc che rendi più particolari e quei personaggi si affezionano ti danno più senso del pericolo della battaglia certo ma è sempre colpito una cosa che ha fatto alessandro magno quando ha preso il comando e ha riformato la falange macedone che faceva combattere i fratelli spalla spalla perché così non abbandonavano il campo di battaglia perché sapevano che non è un soldato sconosciuto che ho incontrato per le due settimane di campagna al mio fianco ma è mio fratello o il mio amico di infanzia va bene direi che abbiamo tirato fuori abbastanza cose anche da questa testimonianza grazie per averci iscritto e vi ricordiamo che potete scriverci le vostre richieste d'aiuto le vostre testimonianze o quello che volete a la mail che è draghi.microfono chiocciolagmail.com è giunto il momento di fare un po di pubblicità a qualche fantastico sponsor che ha deciso di sostenerci e che ancora non abbiamo se avete delle pagine o delle aziende che volete pubblicizzare in questo spazio non esitate a scriverci e otterrete degli spot pubblicitari super cringe firmati dai due draghi al microfono nel frattempo se volete sostenerci basta scaricare il podcast e consigliarlo ai vostri amici esatto per scriverci invece la mail è così lo ripetiamo draghi.microfono chiocciolagmail.com tutto minuscolo tutto attaccato ok quindi draghi.microfono chiocciolagmail.com esatto eccoci allo spazio dedicato alle novità del mondo dei giochi di ruolo e soprattutto alla wizard of the coast la rubrica che abbiamo deciso di chiamare come regalare soldi a Chris Perkins visto che questo è l'obiettivo di Emilio e beh la scorsa volta ci vi promesso che ci avresti parlato di Icewind Dale in modo più approfondito quindi sentiamo cos'è da dire allora prima di tutto ho sbagliato a fare lo spelling l'altra volta perché Icewind Dale rhyme of the frost maiden cioè rima della fanciulla invece che avevi detto avevo detto rim ah ok perché l'avevo proprio letto male cioè l'ho letto come bordo invece che leggerlo come rima quindi è una nuova espansione che uscirà a settembre ed è una storia horror wizard of the coast aveva già ha già fatto una storia horror di notevole successo in corso of strad ma questa volta non è un horror gotico ok ma si rifà a un horror più moderno Chris Perkins nelle interviste che ha già rilasciato tra l'altro per chi non sapesse chi è Chris Perkins google atolo in questo momento diciamo che è più o meno il dio della wizard il boss della wizard la carica non si è capita anche perché sarà creata da sola quanto pare però comunque si è quello che gestisce un po' le storie che fa da supervisore a tutto ok per metterla in modo banale ha detto che appunto ha preso ispirazione dalla cosa di carpenter uno dei suoi film preferiti per per tirare fuori questo horror moderno dove isolazione paranoia e segreti fanno un po' da tema per la cosa i pericoli saranno quelli di essere intrappolati ma non da soli con gli altri perché ha spiegato che in pratica icewindale come molti di voi sapranno è la zona più a nord della costa della spada oltre alla spina del mondo questa catena montuosa semi invalicabile ed è un terreno ghiacciato e per la maggior parte dell'anno bloccata nell'inverno è stata una è una terra che è stata resa famosa da salvatore lo scrittore di dritzit il famoso beh è un famoso scrittore che scrive nel nei forgotten realms e che tra l'altro ha raccontato che ha scelto quella terra perché non l'aveva scelta nessun altro perché è un triangolino di 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 terra tra il mare ghiacciato le distese di ghiacci a nord e la spina del mondo e quindi la scelta per praticamente essere lasciato da solo come scrittore avere la libertà narrativa c'è anche un paio di videogiochi molto famosi che lui ha collaborato a produrre ah sì questi li avevo visti esatto esatto e quindi wizard of the coast vuole ritornarci anche con la quinta edizione perché livelli ha la campagna la campagna va da livello 1 a 12 ok quindi è una bella lunga sì sì e perkins ha spiegato che la cosa più interessante appunto sfruttare questo inverno che non finisce mai che è alla base del mistero della storia che ancora praticamente tutta da scoprire per nascondere i personaggi perché ha detto visto che tutti sono intabarrati quando escono chiunque si avvicini può essere un mostro come può essere un tuo alleato può essere tre coboldi in un parca quindi cosa sappiamo di questa di questo nuovo modulo sarà di 320 pagine io ho capito 350 dall'intervista ma tutti scrivono 320 quindi 320 sarà molto basato sulla sui passaggi soprattutto lato artistico del volume visto che è così importante il freddo e sulle risorse ci saranno nuove regole per gestire risorse e sopravvivenza in ambienti ostili quindi un dungeons and dragon più survival e sempre riguardo all'art book al lato artistico dell'espansione che chris millanta come preponderante o comunque notevole è importante la luce perché c'era questa interessante discussione interessante per capire come sarà l'ambientazione che sarà talmente buia e misteriosa che hanno dovuto trovare nuove forme artistiche per riuscire a illuminare le scene e farle vedere ha spiegato che c'è una narrazione iniziale quindi un po' più storia lineare da seguire ma ci sono anche ambientazioni satellite che possono essere sfruttate e probabilmente prima di tutto questo un piccolo sandbox per lasciare percepire com'è il mondo ci sono in poi molti nuovi mostri più di ogni altra espansione di dnd a parte ovviamente il manuale dei mostri perché non ci sono così tanti mostri legati al freddo e quindi hanno dovuto un po' ampliare il bestiario a disposizione di noi dungeon master mi sembra che la sagretezza paranoia l'ho già detto e sarà probabilmente il tema fondamentale di tutto e cos'altro posso dire ci sarà anche una selezione di oggetti magici qualche nuovo incantesimo non sarà il focus della storia ma ci sono un paio di potenti oggetti magici addirittura terrificanti ha detto come livello di potere sono 26 ambientazioni è simile alla struttura del kit essenziale per chi l'ha usato io no per esempio quindi non ho idea e appunto la frase che lo descrive vale la pena morire per alcuni segreti ti ispira mi ispira un sacco sì io questo lo prendo di sicuro sì ma perché l'idea c'è mi piacciono tutte le espansioni che stanno facendo un po' meno tradizionali per quel poco che so io della tradizione non sono un grosso esperto però per esempio mi è piaciuto water dip anche se penso che sarebbe potuta essere migliore o meglio avrei voluto che dessero più strumenti per il dungeon master per fare un vero e proprio dragon east e non soltanto che dobbiamo trovare un tesoro perché più una caccia tesoro che una lotta tra bande devi creare tu la lotta tra bande non è così facile quindi spero che prendendo questo nuovo aspetto sull'horror che sono stati molto bravi strad ti diano più strumenti per costruire storie horror e mi piacciono molto di più le ambientazioni che mi diano mi danno strumenti per altre ambientazioni piuttosto che quelle che dicono ok giochiamo in magic o giochiamo di qui o giochiamo di là preferisco qualcosa che mi dia proprio a me l'unica cosa che mi ha fatto venire un po' di dubbi è quello che dicevi che comunque alla fine c'è l'ambientazione è proprio tipica e quindi rimane diciamo così per tutti e dodici livelli non so come dire anche solo il fatto di quello che dicevi no che sono tutti bardati e quindi c'è sempre questa tensione che non sai chi c'è ok all'inizio i primi livelli dici ok cavolo però dodici livelli così sempre con questa cosa non inizia a diventare un po' quello quello non lo so secondo me il rischio di andare poi a stufare allora da quello che ho capito ne ha parlato anche perkins e ha detto che ci sono molti momenti di luce all'interno di queste ombre un po' come in corso strada che ci sono alcuni personaggi positivi anche se rari ho visto che ci sono hanno introdotto un gioco dei goliath a cui i personaggi possono imparare a giocare a partecipare ai tornei la caccia alla trota c'è questa particolare trota di cui non ricordo assolutamente il nome che ha la testa d'avorio e che aveva particolare esportazione della regione questo avorio che gli artisti decorano e intarsano e quindi si può cacciare la trota ci sono proprio il fatto che sì no ci sono un'unica è un'unica valle però poi spero che siano riuscite a differenziarla molto bene all'interno con barovia sono comunque riusciti c'è nel senso già appunto barovia vallachi si esatto sono molto diverse quindi sì credo che riusciranno è vero che dal punto di vista estetico mentre barovia comunque potevi dare una palette di colori diverse ad ogni città cioè come dicevi l'alabazia è molto diversa da barovia o dal monte bardoc o dal castello di strad in questa con tutta quella neve può essere più difficile dalle immagini che ho visto ci sono riusciti bene perché ci sono un po di grotte ci sono un po di rovine coperte dalle nevi quindi si vede sempre il ghiaccio però è veramente più l'oscurità che la neve cioè non si vede neanche tanto il bianco perché queste fonti di luce colorate di verde blu rosso e ti fanno vedere la neve in vari colori quindi è più quella sensazione che mi ha dato dalle immagini che hanno già rilasciato è più la lapponia sotto l'aurora boreale ok ok che quindi cioè ti attira come cosa nonostante poi magari veramente quello che l'horror non è tanto l'ambientazione ma sono proprio il fatto che tu sei bloccato con altre persone e che la paranoia aumenterà 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 quindi mi aspetto che le primi livelli sia più leggera cioè con qualche mistero qualcosa che ti spinge a muoverti ma poi pian piano aumenti 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 fino a un culmine che poi tra l'altro perkins ha detto che sebbene ci siano un paio di lieti fini possibili la maggior parte sono non so se la maggior parte però ci sono anche finali tragici che lui trova soddisfacenti e interessanti quindi a differenza di corso strad che i finali sono praticamente due senza fare spoiler qui sembrerebbe che ci sia più più scelta sì bisognerebbe vedere bene l'essenziali oh mio dio il kit essenziale ok magari se qualcuno dei nostri ascoltatori l'ha usato può scriverci spiegarci come funziona però appunto sembrerebbe essere una cosa più modulare quindi poi sai dm gestire la fatica della continua tensione e paranoia però sì può essere un problema però comunque mi sembra interessante e soprattutto il lato survival mi piace come si no la cosa che dicevi che hanno comunque inserito nuove meccaniche hanno inserito non si sa molto delle nuove meccaniche non hanno detto solo che ci saranno nuove meccaniche così come non si sa molto della storia per quello non ho detto niente prima si sa solo che appunto c'è questa frost maiden che è una divinità minore che è la divinità del gelo del freddo che è coinvolta probabilmente in qualche modo con il fatto che l'inverno non finisce più a narnia scherzo ma comunque settembre è dietro l'angolo quindi non ci resta che acquistarlo e scoprire e poi arriva giusto per il periodo invernale quindi si può si può provare bene allora l'argomento principale di oggi è un argomento un po' particolare e ho deciso di fare anche un esperimento su emilio che userò come cavia ma questo esperimento potrete poi testarlo anche tutti voi e vi spiegheremo come fare si tratta di un test di personalità di gioco infatti uno degli studiosi più famosi del gioco in generale cioè steward brown che è uno psichiatra statunitense che appunto è specializzato nel gioco e negli effetti che il gioco ha sulla psiche ed è anche appunto un ricercatore clinico per quanto riguarda queste cose e ha fondato appunto anche insomma un istituto che si occupa appunto del gioco come terapia eccetera eccetera ha anche creato queste otto personalità di gioco ora lui non ha ovviamente creato delle personalità riferite soltanto al mondo dei giochi di ruolo ma del gioco in generale io mi ero già divertita in precedenza a fare un articolo estrapolando questi concetti e cercando di applicarli invece al mondo del gioco di ruolo in particolare a dnd oggi abbiamo deciso di provare addirittura a creare un vero e proprio test della personalità quindi io farò delle domande a emilio leggerò le risposte lui avrà una o più scelte a seconda delle domande dopodiché gli dirò qual è il risultato e qual è quindi la sua personalità di gioco e poi magari vi spiego anche un attimo in breve quali sono queste otto personalità tenete conto che ognuno di noi non ha una sola personalità di gioco di solito ce ne sono almeno due o tre e soprattutto non sono delle cose statiche quindi è molto probabile che a seconda del gioco che facciamo della situazione in cui siamo e della nostra età della nostra evoluzione insomma cambiamo la nostra personalità di gioco perciò non vi spaventate se quella che viene fuori non corrisponde proprio a quella che pensavate di avere è probabile che semplicemente nelle condizioni in cui siete in quel momento venga fuori quella determinata personalità e funziona anche con i dungeon master sì 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 esatto anzi allora di solito è molto probabile che il dungeon master abbia una precisa personalità ma in realtà secondo me possono venirne fuori anche altre perché il dungeon master una precisa personalità perché tra le varie personalità che ha individuato brown ce n'è una che sembra scritta apposta per il dungeon master no infatti le dirò dopo perché almeno non vieni condizionato inoltre per non spoilerarvi tutto il test farò leggere a emilio in silenzio le varie risposte lui dirà soltanto quella che che vota lui insomma così non le legge tutte voi non siete condizionati prima di fare il test allora iniziamo la prima domanda è quello che amo più di dungeons and dragons hai una sola scelta ok urca e direi inventare un mondo e una storia dare background dettagliati ai personaggi ok la seconda domanda invece prevede due scelte durante la sessione due punti mi concentro sul roleplay immagino già come potrebbero proseguire le cose nella prossima sessione ok terza domanda qui hai una sola scelta durante i combattimenti due punti una sola scelta direi ho bisogno di stare in piedi perché alla fine mi alzo sempre in un modo o nell'altro è vero nel creare un personaggio due scelte ok allora immagino i dettagli del suo carattere della sua storia e poi in realtà mi sono accorto che spesso faccio personaggi simili a me le volte che ho giocato magari una mia caratteristica in realtà la parte più interessante è tirare i dadi ok qui hai una sola scelta durante la descrizione dei luoghi in realtà no sai c'è sì c'è sì sì ascolto attentamente apprezzo ma immagino come l'avrei fatta io di sicuro però in realtà faccio sì quella no dimmi qual è quella su cui sei indeciso no in realtà mi distraggo facilmente quando gli altri descrivono cose però no ascolto attentamente cioè non è vero che ascolto attentamente però il resto sì ok ti distrai e pensi come l'avresti visto esatto fondamentalmente sì ok sesta domanda due scelte quando muore un mio personaggio un mio personaggio ok ruolo al meglio le ultime parole se ho tempo inizia a pensare alla serie del prossimo perché in realtà non ne ho pronti tanti non ho tipo due o tre al massimo ultima domanda due scelte che ruolo ho nel mio gruppo di gioco ok quello che fa cadere i danni sotto al tavolo è quello che sembra interpretare di continuo di sicuro sia come giocatore che come master power player no il leader quando inizia ad annoiarmi punti no di sicuro è il leader allora quello che decide ok allora abbiamo finito sei più eterogeneo di quanto pensassi hai visto sorprendo sempre allora io pensavo che avresti risposto che avresti risposto tutte quante con l'opzione che mi aspettavo io che non dirò qual è allora lui aveva delle opzioni abbinate a delle lettere semplicemente andiamo a contare qual è stata la prima lettera più scelta e la seconda lettera più scelta perché come ho detto non c'è una sola personalità di ruolo ne hai cinque di questa lettera qui ok che era quella che ti aspettavo che era quella che mi aspettavo allora innanzitutto una personalità di gioco sono in ansia che propende per la personalità dello scrittore e in effetti come dicevo è un classico dei dungeon master nel senso che in generale la personalità dello scrittore in qualsiasi gioco diciamo è quella che brown vede come colui che si diverte immaginando scrivendo creando mondi storie perciò c'è per queste persone il divertimento sta in quello perciò è ovvio che quando si approcciano ai giochi di ruolo cercano o di fare i narratori master eccetera oppure comunque nel caso in cui dovessero giocare si divertono a trarre beneficio a trarre piacere dal fatto di scrivere delle storie molto dettagliate nei background dei loro personaggi e la seconda personalità che è venuta fuori obiettivo sono molto dettagliate però va bene beh però diciamo che non le fai scontate cioè nel senso che cerchi di di crearle con uno schema che abbia senso insomma sì sì intendo di giocare con un click share di sapere un altro discorso ok e per quanto riguarda l'altra personalità è quella dell'esploratore l'esploratore è da intendersi in generale come colui che trova il divertimento appunto nel poter scoprire nuove cose quindi ad esempio nel viaggiare però brown dice anche che questo può avvenire attraverso l'immaginazione quindi leggendo libri guardando film leggendo fumetti eccetera nel caso di dnd si applica molto bene perché è la possibilità di esplorare nuovi sentimenti nuove vite nuove esperienze che non sono fattibili nel mondo reale quindi è chi gioca perché vede questo nella possibilità nel nel gioco di ruolo la possibilità di provare qualcosa che non può provare nel suo nella sua vita reale ti può essere un necromante sempre ok e quindi ti ci ritrovi in queste cose sì sì ok volevo fare un'altra battuta sul necromante ma era va bene dico anche un attimo le altre personalità non lo so vabbè ti dico le altre due che ti sono venute fuori vai allora hai due risposte di quello quindi cinestetico cioè una persona che si diverte facendo giochi di movimento di solito e quindi a volte restare seduti al tavolo per quattro ore di sessione può essere un po faticoso nel tuo caso hai detto soltanto due risposte perciò in realtà non ti ci rivedi esatto sono quelle persone che magari c'è sono comunque prese dalla storia di dnd sono comunque prese dal loro personaggio sono affezionati e si divertono di fatto a giocare con i loro amici però le vedete che sono proprio insofferenti no che magari continuano a muovere le gambe che chiedono di fare una pausa per sgranchirsi magari continuano a far roteare i dadi sul tavolo e quindi i dadi continuano a cadere per terra o tirano dadi a caso per vedere quanto fanno giusto perché sennò si annoiano insomma sono persone che hanno bisogno di azione no nella loro vita quindi i momenti morti in cui non c'è tensione li sentono come qualcosa di quasi opprimente perciò stare al tavolo diventa opprimente magari per loro ad esempio potrebbe essere molto più utile giocare dal vivo di ruolo quindi con il larp quello che mi stavo chiedendo è anche come inserire piccole cose dal vivo cioè se comunque una personalità no quindi hai qualcuno al tavolo che ha bisogno di muoversi io gioco anche con ragazzi e bambini più più piccoli che magari fanno fatica a rimanere due tre ore al tavolo a giocare potremmo fare un episodio prima o poi eh sì sarebbe interessante di sicuro e poi l'ultima personalità che ti è venuta fuori che però vabbè appunto è una bassa percentuale è il regista che direi che è appropriata anche questa però non è il regista nel senso appunto il dungeon master quella è appunto la personalità dello scrittore più che altro il regista è colui che già nel gruppo diciamo al di fuori del gruppo di gioco è quello che di solito cerca di organizzare il gruppo cioè di proporre di gestire gli altri di amministrare sono io mi è familiare e quindi è colui che magari organizza la pizzata andiamo in birreria ci troviamo per parlare della sessione ragazzi ma quando è che si fa sessione organizziamoci tu quando puoi tu quando non puoi è chi tiene un po le fila del gruppo e poi oltretutto nel gioco questo si rivede moltissimo perché di solito è quello che cerca di comportarsi da leader magari appunto cercando di gestire proprio i piani facendo delle strategie eccetera eccetera e dai le altre non ve le dico non ve le spoiler allora va bene se posso rifare il test finché non mi viene fuori quella che mi è il review il regista no mi dispiace non funziona così va bene allora se siete curiosi di scoprire qual è la vostra personalità pubblicherò le stories su instagram con la domanda e le varie opzioni così voi vi fate i conti semplicemente segnandovi quali sono le lettere che avete usato di più e poi alla fine vi metto anche una descrizione di tutte le personalità quindi qual è il profilo instagram il profilo instagram è dndice l'endol viene scritto così trattino basso d n d i c e trattino basso prima di salutarci è giunto il momento del nostro indovinello vi ricordiamo che potete vincere il titolo di drago onorario rispondendo il più velocemente possibile nel modo corretto e tra l'altro c'è una novità da annunciarvi perché c'è qualcuno che ha messo in palio un premio interessante infatti ci sarà una classifica di coloro che hanno vinto il titolo di drago onorario e il primo classificato vincerà questo premio vi spiegheremo nelle prossime puntate esattamente di cosa si tratta e quando verrà annunciato il vincitore del del titolo di drago onorario e di questo premio per rispondere potete scriverci alla mail draghi punto microfono chiocciolagmail.com oppure direttamente sul profilo instagram di giada ok vado con l'indovinello di oggi tirate su iniziativa sono fredda come la morte ma se mi invochi salverò la tua sorte quando ti colpiscono non ti spaventare anche senza intimorire infernale con me qualcosa potrai sempre fare quindi vi ricordiamo che se volete rispondere la mail draghi punto microfono chiocciolagmail.com oppure scrivendo direttamente al profilo instagram di giada aspettiamo anche i vostri commenti all'episodio siamo curiosi di sapere cosa ne pensate aspettiamo soprattutto al prossimo episodio ciao 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 ciao